L'imminente obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro sta creando cause e preoccupazioni. A due soli giorni dallo scattare della misura, infatti, si conta che in provincia di Pesare e Urbino siano tra i 12 e i 15 mila i lavoratori non vaccinati. Numeri che fanno temere a sindacati Confindustria non solo le assenze forzate che potrebbero verificarsi venerdì 15, ma anche una grande richiesta da parte dei lavoratori senza certificazione verde di prenotare un tampone con il conseguente rischio di intasamento delle strutture ritenute non sufficienti da Confindustria per reggere l'onda d'urto. La mancanza di tamponi, infatti, potrebbe avere conseguenze sulla presenza al lavoro dei dipendenti, ma il problema dei test antigenici rapidi, dell'assenza del personale e delle sostituzioni potrebbe essere un importante nodo da sciogliere non solo per le grandi imprese. Nel caso delle piccole aziende artigiane, la preoccupazione è quella che anche con la mancata presenza di pochi dipendenti la produzione possa essere comunque intaccata. Diverso è il caso delle piccole imprese a conduzione familiare, dove l'assenza di personale potrebbe essere sopperita con doppi turni dei titolari o dei membri della famiglia. Inoltre, ad aggiungersi alla lista, ci sono il problema dei tempi, che vedrebbe circa 15 mila lavoratori effettuare un tampone per tre volte a settimana, e la questione dei prezzi. Il test antigenico rapido ad oggi costa 15 euro, per questo è in atto un confronto su eventuali forme di abbonamento e sconti sui tamponi. Nel pomeriggio si è svolto un incontro in prefettura, al quale sono stati convocati i vertici di Confindustria, dei sindacati e gli assessori regionali alla sanità, Filippo Saltamartini e al lavoro Stefano Aguzzi, per far fronte ai problemi che venerdì, visti i numeri, potrebbero rivelarsi estremamente seri.